A Casaldi Principe nel Casertano è stato inaugurato un nuovo commissariato di polizia a sede in una villa in pieno centro, confiscato la Camorra. All'inaugurazione erano presenti il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il capo della polizia Lamberto Giannini e il sindaco Renato Natale. L'apertura del commissariato di Casaldi Principe, ha commentato il ministro, è una vittoria dello Stato.